E' partita ufficialmente, partiti! I papari sono atti, atti, atti Pano, fiorellino, suligano Ecco qua, fatta la nostra ghirlanda di fiori Blah, blah, blah Ahahahahah 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ma che è questa rossa, disse Lasi, non vieni per tosso con noi, andiamo a Brema a fare i musicanti Al Gallo piacque la proposta e se ne andarono tutti e quattro Ciao Sei felice tu lo sai, fai tutto insieme, batti le mani, batti i piedi, fai un salto, dimmi ciao Ciao Ladies and gentlemen, now here for you, Mr. Pondria 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 Ciao 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 Ladies and gentlemen, now here for you, Mr. Pondria 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 E allora si, un benvenuto agli amici di Sbantidì e un saluto particolare agli amici di Jesolo che in questo momento iniziano ufficialmente quello che è l'evento a piedi nudi è un evento incredibile, storico, che quest'anno non poteva mancare, nonostante la situazione anzi diventa ancora più importante, ancora più intenso, perché è un modo per stare tutti quanti insieme, per cui partiamo noi con Sbantidì, per cui ci dedichiamo ai bambini e poi vivrete 12 ore completamente loud, appunto, sulla pagina Facebook a piedi nudi di quello che saranno performance dal vivo, DJ set, ballo e tanto, tanto alto ancora per cui appunto, per questa occasione speciale, questa special edition di Sbantidì live, qui per voi sulla piattaforma appunto a piedi nudi, abbiamo preparato una puntata scoppiettante, un'ora di puro divertimento tra alieni, laboratori creativi, baby dance, il dottor Vermouth Spritz che ci racconterà un po' di giochi che si possono fare con la scienza, è tanto, tanto alto da scoprire tutti quanti insieme tante novità, tanto divertimento, per cui facciamo così, bambini adesso voi venite vicino appunto alla televisione, o al tablet, o il computer, lasciamo che mamma e papà preparino una tavola che stiano aspettando il delivery, che stiano preparando la gredita in giardino, o stiano cucinando in cucina li lasciamo in pace mi approfitto per fare un saluto a Biccio Personal Barman, che è appunto l'organizzatore ufficiale di questo super evento a bimbi nudi, e a lui che ha chiamato Sbantidì per essere qui, appunto, intrattenendo i bambini mentre appunto i genitori preparano il pranzo, per cui facciamo così, bimbi, venite vicino al computer allo schermo, al tablet, al cellulare, lasciamo mamma e papà preparare la tavola che stiano aspettando il pranzo con il delivery, o che si stiano preparando in autonomia una bella gredita in giardino, o che stiano semplicemente in cucina, li lasciamo in pace, no? ci dedichiamo a Sbantidì per un'oretta, tutti quanti insieme, abbiamo tante sorprese è una puntata intensa, gli anni che arrivano, il teatro d'ombre, il baby dance, i laboratori creativi il dottor verbo spritzen ci insegnerà a giocare con la scienza, e tanto, tanto alto ancora per cui, signori e signori, è ufficiale a bimbi nudi, Sbantidì, Special Edition, si parte con la prima rubrica che ovviamente è legata alla creatività quindi parliamo di laboratori creativi, quindi parliamo di creativamente ciao mamme e bimbi allora, lo sapete che fra poco primavera e dobbiamo impegnare i nostri figli dobbiamo fare un albero con le foglie colorate prendiamo un cartoncino colorato mettiamo la manina, o di vostri figli o anche della mamma o papà in mezzo il foglio cerchiamo di lasciare spazio qua e dobbiamo disegnare la mano ecco, abbiamo fatto adesso dove ho un po' sbagliato posso cancellare volendo ecco poi mi serve un righello e dove abbiamo lasciato il spazio lo faccio tutto dritto possiamo allungare un po' ecco adesso dobbiamo ritagliare prendiamo il forbice se fanno i vostri figli meglio che tagliate voi perché non voglio che i figli fanno male e andiamo avanti con il ritaglio ecco qua abbiamo finito la nostra manina questo andrà così facciamo piccoli tagliti uno e due e sarà così ecco può stare in piedi ok qua possiamo anche accorciare ecco adesso vi servirà la colla eccola qua però prima di questo vi serve tanta carta colorata per fare tanti cuoricini io ho già preparato i cuoricini eccoli qua e questi cuoricini abbiamo andiamo attaccare alla nostra alla nostra manina in mezzo e la attacchiamo se volete anche possiamo un po' aggiungere ma per me va bene così facciamo un po' seccare poi volendo si può tagliare un pezzetto di cartone attaccarlo qua e scrivere primavera 2020 ecco il nostro albero a posto finito per regaliare o ai nonni o anche alle zie ecco qua ciao ciao alla prossima ed eccoci qua dopo questo momento creativo vissuto tutti insieme passiamo alla scienza quindi lasciamo lo spazio e voce al dottor verbo spritzel che adesso ci spiegherà appunto come funziona appunto la granità oh 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 buio n'amben scusate stavo facendo esperimento stavo controllando mio esperimento di mutazione genetica esperimento no, niente di che, niente di particolare, solo dobi per me dai Bill Cosmin, vai a dormire, dai, su, ecco qua allora oggi andiamo a parlare appunto di, andiamo a parlare di gravità gravità è l'energia che ci tiene attaccati a terra che ci permette di camminare, attaccati a terreno se non ci fosse gravità, noi volteggeremmo nello spazio, un po' come nei film degli astronauti un pochino di sensazione senza gravità, la possiamo provare tutti dentro vicina sotto acqua noi abbiamo peso che è molto meno importante quindi riusciamo a volteggiare come senza gravità perché è questo? perché gravità? cambia base a peso gravità è stata scoperta grazie a Mera me l'hai caduta da albero, e a quel punto il scienziato famoso ha guardato ha detto questa è gravità? molto semplice no? andiamo a vedere però appunto come cambia gravità in base all'oggetto per sicurezza vi consiglio di non fare a casa questo esperimento molto importante questo non fare a casa questo esperimento ok anche io faccio l'esperimento ma porto l'oggetto davanti a me per non rischiare che cade in testa faccia molto male ok prendiamo mela lasciamo cadere vediamo quanto mette in velocità a cadere su terreno come potete vedere in base al peso della mela caduto molto velocemente cosa succede se noi utilizziamo qualche cosa di molto più leggero come pezzo di carta igienica carta igienica è il materiale che ho pensato perché voi bambino che siete a casa a fare birchino tutti quanti facciamo cacca ecco e quindi tutti quanti abbiamo carta igienica guardate carta igienica come cade sul terreno per gravità cartigienica mette molto più tempo di mela questo perché cartigienica e mela hanno due pesi diversi mela molto più pesante di carta igienica andiamo a fare test cartigienica e mela guardate come mela caduta e cartigienica ancora doveva cadere come avete potuto notare ok adesso andiamo a provare gravità con oggetto condividetone pieno di sabbia molto pesante molto più pesante di mela vediamo come gravità il franzo di lui siamo pronti per l'esperimento questo è emotivo per cui io ho detto se non inizio non fare esperimento a casa perché gravità molto simpatica ma può fare molto male è il momento dei cartoni animati cartoni animati un pelo particolare andiamo nel mondo degli unsens un mondo completamente senza senso parte per voi soppopera 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 ci sono si si guarda mamma come e Sì Vabbè vabbè Ehhhhhhhhhhh María María e allora siamo arrivati in uno dei momenti nuovi di questa SvanTV in anteprima appunto per il supervento di Gesù a piedi nudi vi presentiamo la compagnia il gatto nero nel loro primo spettacolo appunto del teatro d'ombre che si chiama Old Lady conosco una vecchia signora che ha ingoiato una mosca non so perché abbia ingoiato la mosca, forse morirà conosco una vecchia signora che ha ingoiato un ragno che si contorceva ridacchiava e solleticava dentro di lei ingoiò il ragno per catturare la mosca non so perché abbia ingoiato la mosca, forse morirà conosco una vecchia signora che ha ingoiato un uccello che assurdo inghiottire un uccello ingoiò l'uccello per catturare il ragno che si contorceva ridacchiava solleticava dentro di lei ingoiò il ragno per catturare la mosca non so perché abbia ingoiato la mosca forse morirà conosco una vecchia signora che ha ingoiato un gatto immagina di ingoiare un gatto ingoiò il gatto per catturare l'uccello ingoiò l'uccello per catturare il ragno che si contorceva ridacchiava solleticava dentro di lei ingoiò il ragno per catturare la mosca non so perché abbia ingoiato la mosca forse morirà conosco una vecchia signora che ha ingoiato un cane che male inghiottire un cane ingoiò il cane ingoiò il cane per catturare il gatto ingoiò il gatto per catturare l'uccello ingoiò l'uccello per catturare il ragno che si contorceva ridacchiava solleticava dentro di lei ingoiò il ragno per catturare la mosca non so perché abbia ingoiato la mosca forse morirà conosco una vecchia signora che ha ingoiato una capra appena aperto la gola ha ingoiato la capra ingoiò la capra per catturare il cane ingoiò il cane per catturare il gatto ingoiò il gatto per catturare l'uccello ingoiò l'uccello per catturare il ragno che si contorceva ridacchiava e solleticava dentro di lei ingoiò il ragno per catturare la mosca non so perché abbia ingoiato la mosca forse morirà conosco una vecchia signora che ha ingoiato una mucca non so come ma ha ingoiato una mucca ingoiò la mucca per catturare la capra ingoiò la capra per catturare il cane ingoiò il cane per catturare il gatto ingoiò il gatto per catturare l'uccello ingoiò l'uccello ingoiò per catturare il ragno che si contorceva ridacchiava e solleticava dentro di lei ingoiò il ragno per catturare la mosca non so perché abbia ingoiato la mosca forse morirà conosco una vecchia signora che ha ingoiato un cavallo l'è morta naturalmente e mentre mamma e papà cucinano anche noi trattiamo di cucina abbiamo scoperto recentemente che l'unicorno Penny che a Benzafette è un'incradibile ballerina per tutte le baby dance di Spam TV in realtà è anche una cuoca provetta per cui andiamo a goderci una ricetta dell'unicorno Penny ciao bambini sono l'unicorno Penny oggi vi farò stare con me nella mia cucina dove si preparano tante ricette spavoliziose bene bambini ora prendiamo la nostra barchetta magica e andiamo a vedere quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per preparare la nostra super torta allo yogurt il primo ingrediente è yogurt ci servono 250 grammi di yogurt il secondo ingrediente è il latte ci servono 250 mg di latte il terzo ingrediente è il burro ci servono 70 grammi di burro e poi il preparato per torta io ho preso questo preparato per torta allo yogurt ok bambini per prima cosa bisogna preparare il nostro fondo per la torta e non è semplicissimo ci sarà bisogno di un aiuto di un adulto o di qualcuno di più grande bisogna per prima cosa staccare il fondo rotondo attraverso le pieghe del cartone poi bisogna mettere il fondo rotondo in questo modo e far girare attorno questo bordo e poi piegare sotto questi triangolini qui e chiudere qui ed ecco il nostro preparato per torta ecco si è appena aperto vi faccio vedere come si fa chiudete e poi chiudete qui ecco fatto ok bambini dopo aver messo il fondo per la torta in un piatto andiamo a prendere 70 grammi di burro e un pentolino mettiamo burro nel pentolino e facciamo sciogliere il burro a fuoco medio mmm che buon profumino una volta sciolto il burro prendiamo il preparato fondo torta e lo versiamo dentro il burro sciolto mescoliamo bene 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 e facciamo una magia come la voce ha creato il nostro fondo biscottoso lo andiamo a versare nello stampino per la torta e con l'aiuto di un cucchiaio lo andiamo ad estendere per bene facciamo in modo facciamo in modo che diventa tutto liscio bene bambino adesso bisogna versare 250 mg di latte in una terrina un po' alta ora ora voi misurate 250 mg di latte l'unicorno peini fa un po' a casaccio perché è un po' pasticcione ma voi dovete misurarli che siano di 150 mg ecco fatto poi prendete l'altra busta veloce scritto preparato per crema e la versate dentro mescolate un po' non si attacchi nulla al bordo e poi con lo sbattitore elettrico quindi dovete per forza farvi aiutare da un adulto andremo a mescolare prima piano e poi quando vediamo che monto un pochino più forte ecco fatto oh magia 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 voilà adesso avremo bisogno dello yogurt vi ricordate 250 g di yogurt io userò lo yogurt al pistacchio bisogna versarlo dentro la terrina mescolato un po' e ora andiamo a montare con dentro anche lo yogurt e magia 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 ecco fatto bene riprendete il fondo per torta con dentro il biscotto mentre a tempo all'unicorno Penny si è aperto il fondo per torta e ha girato tutto il biscotto ma poi ha fatto una magia ed è tornato tutto a posto comunque vi consiglio di mettere un po' di scotch qui così non si apre ma sono sicura che voi sarete bravissimi e non ne avete bisogno prendete il preparato che abbiamo appena montato e con l'aiuto di un mestolo lo versate nella nel fondo per torta biscottoso ecco fatto ora andate a piattire bene bene con il mescolo mestolo la nostra torta in modo che venga bella bella una volta che la tiriamo fuori dal frigo con l'aiuto di una forchetta andate a creare delle ondine e voilà la nostra torta è pronta meglio non alzarla troppo ora la facciamo riposare in tutto per almeno due ore bene bambini la nostra torta è pronta e ora possiamo decorarla io ho delle decorazioni per torta ora ve le faccio vedere ma se voi non avete delle decorazioni per torta potete decorare la vostra torta usando dei pezzi di frutta o della cioccolata ognuno può decorare la propria torta come vuole l'importante è farla con tanto amore e voilà la nostra torta è pronta bambini è stato bellissimo preparare la torta no yogurt insieme a voi è divenuta davvero sfavoliziosa ci vediamo di nuovo la prossima volta nella mia cucina per preparare insieme un altro super dolce sfavolizioso baci bambini ciao vi voglio tanto bene ciao 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 a tutti amici amici di Ben io vi presento sono Boni Boni quest'oggi abbiamo tantissime offerte della mia casa incominciamo subito dal primo prodotto e questo prodotto scandalizzare il mercato in pochissimo tempo circa due o tre giorni comunque adesso ve lo mostro ed eccolo qua a voi la mia mitica foto del mio spettacolo sempre sponsorizzato da ben tv grazie e lasciate un bel like e spero che anche io collaboro e ce lo lascio sempre un bel like che non vi costa mai niente però supportate sempre questa foto gigante qua ricrea in me nel mio primo spettacolo pensate nel mio primo spettacolo dove devo ancora essere multimilardario quindi cioè mi valo i soldi allora per questa magnifica foto avrete sempre un minuto facciamo al 30% di sconto va bene anche questo quindi accorrete per ottenere la mia mitica foto annifico prezzo qui sopra scritto e ottenete questa fantastica meravigliosa stupenda non trovo altri aggettivi per questa messa foto quindi accorrete chiamate il numero qua adesso partirà il minuto e il numero di tempo forse vi aspettarò adesso a voi quindi aspettiamo confido in voi ragazzi però mancano esattamente 30 secondi ragazzi quindi se non ha con me che subito non ha il carretto e fin la stupendo di fare la mia metà qui attraverso tutti per la mia metà qui quattro si è così! mi fa mai fare la mia metà qui adesso mancano 10 nove! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 2, 1 e ragazzi anche per questo i saldi sono andati, però vi ho scelto una piccola sorpresa, riguardo questa gigante foto come lo scorso oggetto, il magnifico orologio marchiatemi moni moni ancora qua se lo volete comprare io lo metto sempre di qua, così potete fare un bel riso conto dei prodotti otterrete oltre il 50% di sconto su questa gigantesca foto, bellissima tra l'altro quindi avete sempre 30 secondi per chiamare al 50% di sconto, chiamate, rispetto accorrete in tanti per questo, aspetto ancora ci sono, oh ecco la prima chiamata, benissimo, pronto? eh sì, eh, salve sono la signora Giada, vorrei comprare uno sciroppo per la tosse che sono un po' costipata scusi signora, no, no, la fermo seguito un attimo, ecco è, eh, signora, eh, scusi, sai cosa stiamo vendendo almeno? eh, ma è signor bonemone, giusto? sì ecco e io vorrei uno sciroppo antibiotico no, no signora, non vendiamo antibiotici, noi almeno stiamo vendendo, una miitica bellissima foto giudante al oltre 50% di sconto, o interessata? ah si ecco perfetto allora mi dà lo sciroppo quello verde che scioglie più signora è sicura perché in palio c'è anche un orologio sempre a oltre il 50% di sconto questi due marchiati marchio money money si molto bello però l'orologio non mi interessa signora ne è sicura? si sono sicura vorrei non gli diamo antibiotici signora lo sciroppo forse no no signora aspetti bene e vi informo che anche per questa bellissima foto il tempo sta per scadere chiamate presto ma perché avete solo e dico solo 10 secondi 10 9 8 7 6 5 4 1 3 2 1 la 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 Sì, 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 sì. Sono intorno a noi, sono verdi e pelosi, sono curiosissimi di tutti i nostri oggetti solo che non capiscono assolutamente cosa servono. Andiamo a vederci allievi tra di noi! Grazie a tutti! 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 e a tutti! Grazie 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 a tutti! Così! 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 Molto semplice queste cose! tutto va, meraviglia passiamo occhie molto importante per proteggerci è non infilare dita non infilare dita non infilare mai, dita, dentro l'occhio non preoccupate non preoccupate poi molto, devo dire, molto importante qui ho bisogno di essere molto autoritario mai infilare dita in mano dentro un poker mai, mai andiamo avanti molto importante non uscire di casa sfruttare occasione sfruttare occasione per passare tempo e lasciare messaggio uè professore tutto bene? senti solito dai ci vediamo con l'appetit mi raccomando mi raccomando che mi raccomando Aspetta! musica 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ciao bambini Sono l'unicorno Penny Siete pronti per Gigi Babà Lulù Gigi Babà Lulù Gigi Babà Lulù Agitando maracca Gigi Babà Lulù Gigi Gerando aranciata Gigi Babà Lulù Fru frullando banane Gigi Babà Lulù Givaluando a piacere Gigi Babà Lulù Fantastica festa Fra frutta e frappe Girotondi, gitani, ghiaccioli Gelati, trillanti Trombette, trenini e trantran Carambolanti, casca, dolorati, can can Ma mi ronza, mi ronza Continuamente nella testa, la testa Solamente Gigi Babà Lulù Gigi Babà Lulù Gigi Babà Lulù Gigi Babà Lulù Agitando maracca Gigi Babà Lulù Piu-piu, 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 piu-piu Croccanti crocchette con crema che cre Tuonanti tamburi di tanti tan tan Cingillanti girette, giacchetti e gilet Favolosi furamboli, fuochi e palò Ma mi ronza, mi ronza continuamente Nella testa, la testa solamente Gigi Baba, Lulu Gigi Baba, Lulu Gigi Baba L'uruna piena, gingirando il mondo, Baba Lampin Lulu Gigi Baba, Lulu Gigi Baba, Lulu Gigi Baba Giammi Lulu con il Gigi Baba, Lulu Agitando maracas Shishakerando aranciata Fru-fru-frullando banane Gibaluando a piacere Agitando maracas Shishakerando aranciata Shishakerando aranciata Fru-fru-frullando banane Shishakerando aranciata Givaluando a piacere Shishakerando aranciata Perfetto, allora sbanti di Per oggi finisce qui Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi Fino alla fine Speriamo di aver fatto cosa che l'obbita Per tutti quanti i primi Ma anche per le famiglie E ovviamente ci mettiamo a fianco a voi Adesso ci condiamo questo Supravento a piedi nudi E come se fossimo tutti insieme Sulle spiagge di Giesola Per cui proseguiamo E stiamo ancora sul canale A piedi nudi La pagina Facebook E vi ricordiamo Ovviamente Se avete gradito Quello che avete visto In questo sbattito Potete seguirci Sui nostri canali social Per cui Facebook Instagram E Youtube Che sono i piccati qua sotto Grazie mille A tutti quanti Un saluto particolare A Biccio Personal Barman Che chissà se in giro ancora O in qualche modo Sta riuscendo A godersi anche lui Il lavoro Della sua organizzazione Tanto entusiasmo Tanto divertimento Proseguiamo Questo fantastico evento E ci vediamo presto Anche con SbarTV SbarTV